Grazie a tutti. Volevo vedere l'auretta, la vede? Guarda un po' chi sta adesso. Bravo, bravo, è tanto audio. Ma mi sente? Ho attivato l'audio. Lo senti? Sì, sì, sì. Sì, sì, che ho attivato l'audio. La vede, l'auretta? Aspetta. C'è sto cellulare. Antola, la vedi, l'auretta? Sì. 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 Antonio, guarda, ti illustro la mostra, se vuoi. Dopo, 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 quando vi mostra solo la bambina.